Buon pomeriggio, benvenuti di nuovo qui a San Marino per il Best in Show, nella seconda internazionale del Cannes Club di San Marino. Iniziamo subito il programma come da catalogo, Best Baby, Best Juniors, Giovani, Veterani, Coppie, Gruppi, i 10 raggruppi. La signora Liliane, l'Inter Onghena. Allora, pastore bianco svizzero, afghano, flat coated, ok. Ci sono altri baby? Ok, stop. Allora, la signora De Ritter ha già espresso il suo giudizio. Terzo posto, Giorg Schnauzer. Secondo posto, pastore bianco svizzero. Vince, afghano. Allora, per il Best Juniors, il giudice dall'Austria, Karl Reisinger. Michela. 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 Grazie a tutti.